Nome? Emanuele. Emanuele prima. Mi chiamo Emanuele Ravano, sono genovese, però vivo in Svizzera, nell'intermezzo ho vissuto in montagna, sono figlio di genitori che vengono dal mare e quindi hanno imparato a sciare tardi, io invece ho imparato presto e mi sono appassionato, sono diventato maestro di sci nel 2000 e ho cercato di trasmettere la passione di questo bellissimo sport. Oggi sono stato molto fortunato a condividere un'esperienza fotografica con Oliviero Toscani, che è un grande professionista ed è molto simpatico e non me lo aspettavo, ma è molto sorprendente. Spero che lo sci abbia riunito le persone giuste e le personalità giuste con questa simpatia. Ok, grazie.